Come trattare i bambini con dolore addominale? Prendersi cura del proprio figlio malato è la più grande responsabilità di sempre per qualsiasi genitore. I bambini possono incontrare molti rischi per la salute man mano che crescono. Il problema di salute più comune che provano è il mal di stomaco o il dolore addominale. Il dolore addominale è un evento comune in tutti i bambini. Un mal di stomaco è molto doloroso e molto preoccupante sia per il bambino che per il genitore. In questo articolo, studieremo le cause del mal di stomaco, i sintomi nei bambini, il motivo e il modo in cui si verificano, che tipo di alimenti da seguire per i bambini di età compresa tra 2 e 12 anni e per i neonati o i bambini e anche a quale situazione può essere chiamato il dottore e così via. Il dolore addominale è dolore nello stomaco o nella zona della pancia. Può essere ovunque tra il petto e l'inguine. Mal di stomaco provoca anche a causa del virus o dei batteri. I dolori allo stomaco possono essere davvero brutti e possono regalare a te e al tuo bambino notti insonni. Di solito il dolore può iniziare in qualsiasi momento durante il giorno o la notte e può causare una grande preoccupazione. Alcune delle cause più comuni di dolore addominale nei bambini. Problemi intestinali come stitichezza e qualche tipo di irritazione nell'intestino. Problemi legati al cibo come avere troppo cibo che porta indigestione e intossicazione alimentare o allergie alimentari. Infezioni come gastroenterite e infezioni a ireni o alla vescica o qualsiasi altra infezione come il virus dello stomaco o il gas. Problemi al di fuori dell'addome come tensione muscolare. Funziona pignolo. Nessun sonno adeguato. Diarrea. Vomito. Problemi urinari. Se il bambino non è in grado di esprimere chiaramente il proprio dolore, significa che potrebbero essere stressati o ansiosi. Alcuni dei motivi per cui il dolore si verifica sono i seguenti. Non mangiare abbastanza cibi ricchi di fibre come frutta e verdura. Gli alimenti ricchi di fibre aiutano la situazione di stitichezza. Non bere abbastanza acqua. Dovresti tenerli idratati per ridurre il calore nella pancia. Movimenti intestinali. Cambiamenti nella dieta. Prendendo alcuni farmaci. Allergie al latte. Quindi è importante confortare il bambino fornendo sollievo naturale a casa e alleviare il disagio del bambino. Nei giorni più vecchi, i nostri nonni o anziani in famiglia usano applicare un po' di olio di ricino attorno all'ombelico, funziona bene in altri 5-10 minuti. A seguito di prodotti alimentari tratta bene con i bambini con mal di stomaco di età compresa tra 2 anni a 12 anni. 1. Dona ai tuoi figli succhi freschi o acqua da bere, che funziona bene se il dolore è dovuto a una leggera disidratazione. 2. Servire cibo pagliato che lenisce il Tommy e farlo sentire a proprio agio. 3. Conservare con cibi blandi come cracker, pane tostato, pane tostato secco, riso e salsa di mele. 4. Offri loro con papaya, zenzero e menta piperita mastica o anche bevande per stomaco sconvolto o gonfiore. 5. Tè allo zenzero o foglie di menta. 6. Puoi anche coccolare il tuo bambino dando loro un bagno caldo, dando loro bevande calde come acqua calda, tè o zuppa. Dovresti anche sapere quali tipi di cibo evitare al momento del dolore addominale. Evitare cibi piccanti e bevande contenenti caffeina o cibi confezionati. Evitare cibi o bevande dal sapore acido come i prodotti a base di pomodoro o agrumi contenuti. Deve essere più cauto se hai un bambino o un bambino. Non sanno come esprimere il dolore e piangono e si raggomitolano. In questi casi, puoi sospettare i seguenti sintomi in loro. Non avere abbastanza latte materno o mangiare male. Più schizzinoso del solito. Avere un sonno disturbato. Tirando le gambe verso l'alto. Piange più del solito. Difficoltà a urinare, pianto dovuto al dolore. Dal momento che i bambini non hanno i giusti organismi digestivi, l'unico cibo dato loro per i problemi della pancia è l'acqua. È più comune quando un bambino inizia a mangiare cibi solidi. Subiscono alcuni problemi di digestione. Quando noti che tuo figlio si lamenta del dolore all'addome. Chiedigli delle loro condizioni come l'area in cui si verifica il dolore, per quanto tempo il dolore continua. Uno dovrebbe sapere quando chiamare il medico. Quando il bambino soffre dei seguenti sintomi come. Dolore che dura per più di 24 ore. Un addome gonfio. Dolore continuo sul lato destro del loro addome. Un addome che è molto difficile da toccare. Dolore solo in una parte specifica dell'addome. Gonfiore all'inguine. Dolore durante la minzione. Anche il vomito e il vomito frequenti di colore giallo o il vomito di sangue sono molto pericolosi. La diarrea dura più di tre giorni e il sangue nelle feci ha bisogno di un consulto con il medico. Grazie per aver guardato il nostro video. Se trovi questo articolo più utile, per favore condividi e iscriviti al nostro canale. Grazie per aver guardato il nostro canale.